Ora di pranzo, quindi ora di Remix! Oggi è domenica, quindi Remix prevede il meglio di tutta la settimana. Buon pranzo! Tata sposata! Allora, lo ero, perché il mio fidanzato mi ha lasciato... Vabbè, poi mi sono messa col suo amico, però che... Poi l'ho lasciato io, perché adesso mi sono messa con un collega, così che poi vabbè... Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, niente, chiamatemi egoista, chiamatemi ingenua, chiamatemi confusa, chiamatemi fragile. Sì, io ti chiamerei puttadone, che mi sembra un po' riassuntivo, diciamo, no? Fa abbastanza schifo, diciamolo, eh. Allora, vediamo se questa roba qua non fa un po' schifio. Ragazzi, è arrivato il caldo, volevo darvi tre consigli. Bevete tanta acqua, mangiate molta frutta, ma soprattutto l'ultimo, non per importanza, lavatevi le ascelle. Se vuoi vedere un mio sorriso prima delle undici, devi essere o una granita con brioche o un bonifico. Buongiorno. O anche no. Ti anticipo che oggi sono in vena di fare delle follie. Partiamo dal filmato. Mi voglio compromettere oggi, guarda. Oh, io mi devo scangellare da questo gruppo, eh. Non è possibile, non è possibile. E la mattina, il buongiorno. Arrivano le dieci, buona giornata. E il mezzogiorno, buon pranzo. E il pomeriggio, buon pomeriggio. E la sera, buona cena. E la notte, buona notte. Non ce la faccio che chiè! Alessio si è detto, Alessio! No, vabbè! Io non ho commenti proprio. Toppa d'oro! Cioè, 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 cioè. Letteralmente, cioè! No, vabbè, cioè, io, cioè, ma guarda il bro! Cioè, fra, N.C.S., proprio non ci siamo. Cioè, io morta! No, vabbè, ma il bro, certamente. Fra, ma veramente? Tipo, no, ma guarda, cioè. Ma io morta, cioè, cioè, io che ero. bello sentirsi dire ti amo ma nulla a confronto con da domani brusco calo delle temperature buongiorno o anche no hai 50 euro da prestare 50 euro un periodo ma vedi un po da quando vabbè a casa o tutti bene grazie io ci posso spessare la noce capocolla questa è anziena e peccato però la quinta verta per la spina dorsale ce la posso rompere a domani